Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 3 giugno, è San Carlo Luanga ed è la giornata della bicicletta. Si tratta di una celebrazione annuale che promuove l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, economico e salutare. Nel 2018 questa giornata è stata riconosciuta con un voto favorevole di tutti i 193 membri delle Nazioni Unite attraverso una risoluzione che ne ha sancito l'importanza. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la bicicletta come un mezzo di trasporto unico, versatile e di lunga durata che contribuisce alla preservazione dell'ambiente e alla promozione della salute. Oggi è anche la giornata nazionale della crema fritta e la giornata internazionale del fish and chips e dell'uovo. Tra i nati oggi abbiamo Checco Zalone, 1977, Maurizio Mattioli, 1950, e Tony Curtis, 1925. Tra i scomparsi ricordiamo Cassius Clay, 2016, ed Anthony Quinn, 2001.